buongiorno a tutti allora inizia il piccolo tour de force del gigione per verificare l'esito delle schedine bollettine del weekend quindi bando alle ciance ciancio alle bande andiamo subito a vedere come sono andate le schedine tra virgolette mini schedine e le bollette del venerdì degli anticipi c'erano sei partite c'era una partita del campionato spagnolo una partita del campionato francese addirittura due partite del campionato italiano una partita del campionato tedesco una del campionato inglese allora per quanto riguarda la schedina classica quella con doppia fissa eccetera ne azzeccate 4 su 6 perché ahimè ahimè ho sbagliato reims lyone perché ho messo due finita in pareggio 1 a 1 e ho sbagliato hausburg borussia monce blabba che questo è un risultato molto a sorpresa perché non mi sarei mai aspettato una vittoria dell'hausburg contro il borussia monce blabba che invece l'hausburg ha vinto 3 a 1 sul borussia monce blabba e io ho messo i sdue e quindi le altre le ho prese tutte non erano difficili comunque 4 su 6 prese meglio ho fatto nella schedina alternativa perché ne azzeccate 5 su 6 sbagliando soltanto levante valencia terminata 1 a 0 vi avevo consigliato l'over 1 e mezzo per il resto le ho prese tutte ho preso anche la doppia opzione di newcastle aston villa perché vi ho messo l'over 1 e mezzo e anche l'under 3 e mezzo le ho prese tutte e due la partita è terminata 1 a 1 quindi che abbiate scelto uno che abbiate scelto l'altro le avreste prese andiamo a vedere come sono andate le bollette perché sono quelle che contano le schedine fanno libidine perché comunque è già una prima base diciamo per partire con le scelte eccetera poi ci sono quelle mirate le scelte mirate delle schedine allora la schedina delle fisse ne ho prese 2 su 4 vabbè purtroppo ho sbagliato reims lione hausburg borussia monce blabba non mi aspettavo che il lione che è primo in classifica mi pareggiasse con reims ed hausburg mi andasse a battere il borussia monce blabba stesso discorso col multigol perché lione ha fatto solo un gol io ho messo gol ospite 2 4 con reims e invece ne ha fatto uno solo stesso discorso col borussia monce blabba che ha fatto un solo gol in casa dell'hausburg le altre due le ho prese quelle del campionato italiano proseguiamo con la terza bollettina quella con la doppia chance più over ahimè avendo sbagliato hausburg borussia monce blabba che è inutile che vada avanti perché sennò le avrei prese tutte reims lione s2 più aver preso atalanta spezia uno is più aver preso lazio crotone uno is più aver preso 3 su 4 però purtroppo hausburg borussia monce blabba gli s2 non c'è l'over sì gli s2 no quella che ho preso invece è quella che a me fa sempre libidine quindi quella del gol casa gol ospite perché ho preso reims lione gol casa c'è atalanta spezia gol ospite c'è lazio crotone gol ospite c'è hausburg borussia monce blabba gol casa ce ne sono addirittura tre ed era una bollettina che pagava 34 euro e 80 poi la bollettina quella gol più over ne ho prese tre su quattro sbagliando solo reims milione finita uno a uno uno a uno per un gol se non era una bolletta che con 5 euro pagava 122 euro e 19 l'ho sbagliata per un gol poi vabbè c'è l'ultima bollettina è quella due più gol eccetera lì i gol ci sono in tutte tutte le partite hanno il gol purtroppo ho sbagliato il pronostico perché ho messo due a reims lione è finita ahimè uno a uno c'è il gol ma non c'è il due e ausburg borussia monce blabba che ho messo il due c'è il gol tre a uno ma non c'è il due quindi se qualcuno magari ha invertito i miei pronosti ha giocato solo il gol tec presa quindi non sarebbe andata malaccio detto questo andiamo a vedere invece come è andato il campionato spagnolo nel weekend campionato spagnolo che quando ho visto i risultati volevo mandarlo a fufulla perché veramente io non ho parole comunque per quanto riguarda la schedina ne ho azzeccate 7 su 9 che non è male se calcoliamo anche quella del venerdì erano 8 su 10 ma quella del venerdì ormai ve ne ho già parlato di lì è inutile che ve ne parlo di qua e ho sbagliato ahimè selta vigo 30 bilbao perché ho messo l'uno 2 è finita 0 a 0 e ho sbagliato granada real sociedad perché la real sociedad è riuscita a perdere in casa del granada 1 a 0 quindi 7 su 9 discorso diverso invece per quanto riguarda gli altri pronostici proprio perché ci sono stati troppi 0 a 0 e i miei over sono andati a farsi benedire quindi ne ho azzeccate solo 4 su 9 non sto a farvi l'elenco di quelle giuste e quelle sbagliate perché sennò facciamo notte comunque ne ho azzeccate 4 su 9 vi informo solo che dove vi ho consigliato l'under 3 e mezzo li ho presi praticamente ah no sono 5 su 9 perché una partita vi avevo detto under 3 e mezzo avevo fatto l'opposto sono 5 su 9 comunque dove vi ho detto gli under 3 e mezzo preso 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 ecco l'unica sbagliata è il bar villa real dove ho preso l'over 1 e mezzo avevo dato all'alternativa under 3 e mezzo comunque sono 5 su 9 perché giustamente getafe atletico madrid avevo messo come prima scelta l'under 3 e mezzo e poi avevo messo come alternativa l'over 1 e mezzo comunque 5 su 9 cambia poco troppi 0 a 0 signori miei osasugna vagliadolidi odio l'osasugna lo sapete getafe atletico madrid altro 0 a 0 col getafe che rimane anche in 10 ma l'atletico madrid non riesce a segnare selta migo atleti bilbao altro 0 a 0 poi una marea di 1 a 0 2 2 1 a 0 3 0 a 0 1 1 a 1 2 a 1 e un 1 a 3 e un 4 a 1 va bene quindi avrete già capito che è inutile che vi stia a parlare delle bollettine perché ho inserito osasugna vagliadolidi e getafe atletico madrid e anche granada real sociedad nella bolletta quindi 0 a 0 0 a 0 1 a 0 e anche siviglia real betis che doveva essere un derby da libidine eccetera che è terminato 1 a 0 io quando ho visto i risultati volevo mandare a quel paese il campionato spagnolo perché non ho veramente parole una giornata veramente ridicola allora un gol tre gol sei gol basta no perché sennò ne fanno trotti 7 gol 11 gol 12 gol 17 gol in 10 partite media 1,7 gol a partita che schifo scusate il francesismo anche se siamo in spagna in spagna detto questo vi saluto vi ringrazio vado a vedere come sono andati gli altri campionati perché ce ne sono e c'è ancora quello francese che metterò assieme a quello tedesco poi c'è quello italiano e quello inglese e poi devo vedere marcatori e tutto quanto quindi devo vedere come unire i vari campionati e creare i vari video detto questo ci vediamo alla prossima ciao